Tre piani, 15 sale e un percorso articolato che accompagna il visitatore in un abbiaggio nell'arte figurativa dell'Ottocento, un periodo che ha visto tra i suoi protagonisti anche alcuni pittori abruzzesi illustri prestati, si fa per dire, alla scuola napoletana e collocati su queste pareti come se fossero tornati a casa. Un bel allestimento che tra l'altro non propone solo Antonio Mancini o i fratelli Palizzi o Teofilo Patini o Michele Cascella o Francesco Paolo Michetti, ma anche le opere di alcuni pittori francesi del XIX secolo, in particolare quelli della scuola di Barbizon. Merito e passione del collezionista mecenate Venceslao di Perzio e della moglie Rosanna Pallotta, ma anche Cune di Pescara ha fatto la propria parte per il luogo fisico che ospita questa importante collezione. Il Museo dell'Ottocento, fondazione di Perzio Pallotta, è stato inaugurato oggi a Pescara nella sede dell'ex Banca d'Italia in Viale Gabriele D'Annunzio. Si può mappare l'Ottocento che è stato sempre negletto negli studi rinascimentali e barocchi della nostra tradizione di studiosi. Allora c'è un grande Museo dell'Ottocento a Milano, è il Museo dell'Ottocento grande, è bello e quello c'è. A Venezia c'è un Museo dell'Ottocento che però è più del Novecento, quindi lì possiamo dire che non c'è un museo di altrettanto peso. C'è un Museo dell'Ottocento a Firenze, a Palazzo Pitti, ottimo. C'è un Museo dell'Ottocento a Roma, chiuso, perché la parte dell'Ottocento dall'attuale direttrice, che è anche una mia amica, è stata messa nei depositi perché è ritenuta poco moderna e ha esposto solo i monti. Quindi Roma non c'è e poi c'è Napoli e Palermo, quindi in sostanza sono circa cinque città importanti e ad esse si aggiunge Pescara con un peso pari a quello delle istituzioni che ho ricordato. Eppure l'Abruzzo ha dato un contributo importantissimo all'arte dell'Ottocento. E' giusto farlo qui, infatti il settore dell'Ottocento abruzzese è curato particolarmente, non che abbia una grande simpatia per Cascella l'amico, ma si è convinto di comprarne uno. Gli amichetti e gli altri di Barbella ci sono. La Banca d'Italia di Pescara è bellissima, l'edificio sembra perfetto. Questa è una grande occasione per la città perché già è bella di suo Pescara, però questa sarà un'occasione in più per venire, fermarsi e quindi fermarsi qualche giorno in più proprio perché un museo di questa qualità mancava, mancava in Italia, mancava al centro Italia, quindi fantastica location, sito, no location, altrimenti giustamente museo, altrimenti giustamente Vittorio Sgarbi ci sgrida. È un museo vivo perché consentirà a studiosi, giovani, di approfondire un pezzo di storia dell'arte poco conosciuta. Il professor Sgarbi ha detto che la realizzazione di questo museo rappresenta la prova che Dio esista, perché questo è un autentico miracolo. Noi abbiamo combattuto sette anni e mezzo, abbiamo combattuto contro delle persone ottuse e non sempre disinteressate, contro una burocrazia che peraltro è quella che sta uccidendo il nostro Paese.